Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Doesn't Matter Il peggior film mai fatto nella storia, alcuni dicono Salve e benvenuti alla recensione di Halloween Il film che recensirò oggi è... Cacchio! Si vede nulla! Il peggior film del mondo È un film che non ha un genere C'è qualcosa che non va L'avete vista? So che l'avete vista È un'anguria Non lo guarderò mai più? Bugia È venuto lo schifo, però ho sempre sognato di farlo Iniziamo Il film di oggi è... Ehi Otto, posso consigliartelo io il film? Oh Daniele, ciao Ma sì, perché no? Si chiama Primal Park Ok dai, se lo trovo ci do un'occhiata Daniele? Cosa? Ma che cazzo mi hai consigliato? Cosa che non va? 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 No, no, no Io mi rifiuto categoricamente di commentare questa scena Lo fai tu Lo capisci adesso? Lo capisci contro cosa devo combattere ogni volta che guardo un film squallido? Avanti dai, prova a commentare questa scena Dio, perché? Non ce la faccio più E wow Wow E wow 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 Fa schifo Ma parecchio Cioè, parecchio, parecchio, parecchio Praticamente? La tomba che così E ti permette di respirare Lui parla Parla Ma perché devi farlo parlare sott'acqua? Oh mamma Oh Una domanda soggio spontanea E la domanda in questione è Perché? Oh Ma almeno le idee concettuali Di una linea di connessione Tra le altre cose C'era bene avere almeno una linea Il tumore al cervello Ecco cos'è Come vedete io sono abbastanza Sono abbastanza Soltanto per fare zombie Se tu alcune cose non le potevi fare Non le fare E' tanto difficile E' tanto di te E' tanto di te Forza 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 Non riescono a collidere le due cose Che sorpresa E' tanto di te Un cacchio di scuolo Aspirapolvere Che risucchia tutto 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 Risucchia? Un motoscafo Non so se Avete capire Un motoscafo Un acquascuter Un gommone pieno di gente Persone a volo Ma sì Ma io immagino Quello che stava andando sull'acquascutere Fa E ci entra dentro E fa E entra dentro lo scuolo Con l'acquascutere E vede delle persone Sul gommone Salve Salve anche voi qui E Brutto Bastardi E' un mostro che attacca la città Ma è un mostro che attacca la città? Si vedono queste due ragazze Che parlano 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 Piangono Parlano Parlano Piangono Parlano Piangono Piangono Parlano Piangono Pfff Cammilano a caso E si ritrovano in zone a caso della città Dove guarda caso Spesso Il mostro attacca Ma senza un filo logico Un ringraziamento speciale Agli sceneggiatori Dei film della Zilum Che riescono a dare sempre Il peggio di loro stessi Ma questa è la Zilum Loro devono fare sempre Stacco nero Effetto speciale Stacco nero Ripresa di quello che si riprendeva prima Grandissima puttanata Ma perché Se guardo un filo con un mostro Teoricamente il mostro deve fare queste cose Comunque Avete capito Il cazzo di mostro Come lo fanno vedere? Esatto Non lo fanno vedere Secondo me Quello finale Non è un effetto speciale È proprio la telecamera Che dopo essersi notte I coglioni di questo film Si è autodistrutta Esatto Grazie a tutti